Raga, Betto mi ha fatto il regalo più bello della storia Mi ha portato dall'altra parte di Milano a farmi scannerizzare Per poi stamparmi una statuetta di me stesso Raga, è devastante, bella Betto Per festeggiare il mio compleanno ho organizzato un aperitivo intimo in un camerino di Louis Vuitton Yes, per te Oh, per via, sei in macchina, mi sto montando Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Fabio Robazzi Happy birthday to you Thank you, Mr. Brown Ciao, qui al mio compleanno Cammeriere d'eccezione Un cliente vestito in modo molto ambiguo Ciao E' niente, raga Ma lasciamo È doppia, eh Aspetta Vai, vai Puoi fare canzoni Puoi fare video belli Ma dove cazzo vai senza i tuoi fratelli Eeeeeee Puoi fare cano, puoi fare tanti soldi Ma dove cazzo vai senza passi con i tuoi fratelli E' un pazzer Vai, vai Faccio un brindisi che adesso sparco Rompiamo il locale di Cracco Sì Sì Ma no Se sei di Milano, questo è uno dei posti più romantici Che puoi visitare Ma poi arriva il Masseo Ma scusi Ma lei è Gesù praticamente Ma Comunque ragazzi è la festa più surreale Cioè organizzata in sei ore E' la cosa più bella della storia E' bellissima Non riesco, cioè non so come ringrazi Cioè, vabbè Grazie a tutti i partecipanti Auguri Auguri Se avete vediato questa storia vi ho ringraziato Adesso Samu che è stato istituzionale fino adesso ci fa una danza Vai Ma che Porca boia Mille euro di danni Ma, ma scusa Devo ringraziare l'uomo della serata Grandissimo 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 Momento davvero raro E' la sciabolata Di Carlo Cracco Preparatevi Allora con gabbietta Con gabbietta Con gabbietta Signori con gabbietta Si è creato un leggero pubblico Ecco, è il primo tentativo Ma Non va Ma Ma Hai collato Signore, signore Il primo tentativo Un'altra 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 Puoi fare il carlo, puoi fare tanti soldi, ma dove cazzo vai senza passi porbocchi? Nel mondo in cui lavoro io è molto difficile avere dei rapporti sinceri e mantenere delle amicizie che non vengono da noi purtroppo quindi sono molto contento di avere voi qua con me perché vi voglio bere Allora, nel mondo in cui lavoro io è molto difficile avere dei rapporti sinceri e mantenere delle amicizie che non vengono da noi purtroppo quindi sono molto contento di avere voi qua con me Tanti auguri a te! Io belli, ma dove cazzo vai senza i tuoi fratelli? Puoi fare il carlo, puoi fare tanti soldi, ma dove cazzo vai senza passi porbocchi? Ragazzi, facciamo un urlo che forza la sganetta e ignorante per Massimo Boldi, anche tre Uno, due, tre Attenzione, attenzione, parte la rima modificata Con la rima modificata ringrazio Fabio e Chris per la serata UELLO! UELLO! HICHE! HICHE! HA HA HA! Grazie a tutti.